Signor Ministro, lei ha preso il posto del suo predecessore che ha avuto qualche vicissitudine personale e siccome a noi non interessa quello che fa un Ministro nella camera da letto, ma interessa molto quello che fa il Ministro quando si riveste e va in ufficio, dobbiamo prendere atto che San Giuliano, il suo predecessore, ha scelto per la guida di Ales, la principale azienda di servizi culturali di questo Paese, con tantissimi lavoratori assunti, con tantissimi appalti, ha scelto uno il cui curriculum è impresentabile e ridicolo. Il dottor Tagliaferri non ha alcuna esperienza manageriale, quella che ci vende sul curriculum è Robetta, ha come grande pregio agli occhi di chi lo ha nominato essere stato assessore ai servizi sociali in quota Fratelli d'Italia a Frosinone, che è un ruolo importantissimo, non propriamente connaturato e collegato ad Ales, e poi ha spiegato in tutte le trasmissioni televisive che lui si forma guardando i video di Giorgia Meloni, che è una cosa anche interessante. Io non so a quale video di Giorgia Meloni gli faccia riferimento, forse che so al video sulle accise in cui Giorgia Meloni dice eliminiamo le accise, poi non l'ha fatto, o al video in cui Giorgia Meloni dice noi sulle trivelle non accetteremo mai, forse quello, o forse il video in cui Giorgia Meloni voleva uscire dall'euro. In ogni caso non risulta al sottoscritto un tutorial di Giorgia Meloni che sarebbe sicuramente efficace su come si governa una società a chiamatale. Se allora la domanda è, questa presidenza è stata scelta in nome di una valutazione di merito o in nome dell'amichettismo, come io penso? Siccome lei sta facendo un repulisti, leggo, di quelli di prima, le domando se per caso intenda fare repulisti anche sul buon tagliaferri. Anche perché, cito, di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia delineante, un'ontologia intonata, prezzabilissimo questo, alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il risultato è duplice, speculare. Sono le sue casi di ieri alla Commissione. Io trovo interessante sia la citazione non contenuta qui di Hegel che quella che io vedo di Luciano Floridi che ci trovo, sia una citazione che ho visto solo io di Monicelli e di Tognazzi e del Conte Mascetti a proposito della sua strategia culturale. Ma le domando che ci azzecca con Hegel e la rivoluzione permanente dell'infosfera globale un NCC di Frosinone alla guida di un'azienda di servizi culturali, almeno lei. Mi risponda a voce come sa fare lei e non come ha fatto il Chiodo Salvini qualche minuto fa. Ma prego di non tornare sui ministri che hanno risposto prima quando non ci sono più. Prego, prego ministro Giulio, risponda a questa. Presidente, no, spero mi sentiate. Prometto da oggi che farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive del senatore Renzi. Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto che mi offre l'occasione per il illustrare e chiarire, mi auguro definitivamente, ma a questo punto senza illusioni, i tratti salienti della vicenda e l'oggetto. Anzitutto è opportuno ribadire questo. Ales Arte, Lavoro e Servizi S.p.a. è una società in-house a partecipazione pubblica totalitaria che svorge prevalentemente attività funzionali alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale. Essendo una società a controllo pubblico, Ales è soggetta alla disciplina del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo numero 175 del 2016, che immagino il senatore Renzo conoscerà bene, e per quanto ivi non espressamente derogato alle norme sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato. Il suddetto testo unico in particolare, con riferimento all'assunzione e alla questione del personale e delle società a controllo pubblico, rimette alla società stessa la definizione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Andata così. Nello specifico, per rispondere a uno dei quesiti posti, Ales durante l'attuale presidenza ha sempre eseguito per il reclutamento del proprio personale procedure di valutazione comparativa, imparziali e trasparenti, in conformità alla legge e ai principi sopra richiamati, senza avallare dunque modalità non rispondenti e requisiti del merito e della competenza. Da quanto risulta questo Ministero, peraltro, anche le assunzioni fatte dalla struttura e dagli uffici preposti durante i mesi della presidenza Tagliaferri non hanno suscitato reclami o impugnative di qualsivoglia genere da parte di alcun partecipante alle procedure di individuazione e reclutamento, svolte si secondo modalità chiaramente disciplinate e prestabilite, nei rilevi sono pervenuti a tal proposito dagli organi di gestione e di controllo della società medesima, che non sono a Frosinone, che pure mi sembra che Cuba ha circa 43.000 abitanti rispetto a Rignano, che ne fa 8.500. Da quanto risulta questo Ministero, gliel'abbiamo detto, in relazione alla procedura di nomina del Presidente e amministrazione delegato di Ales, dottor Tagliaferri, sarebbe opportuno porre fine alle speculazioni e alle illazioni circolate sinora, a meno, ascoltate bene se potete, a meno di non voler autorizzare il sospetto che tale insistito e allusivo rumore di fondo intorno a lui sia dovuto alla mal riposta illusione che Tagliaferri medesimo venga distratto dal compito affidamento e assunzione agli affidamenti diretti alla chiaroscura gestione dei conti correnti ereditati dalla precedente amministrazione, che ha da ancora pochissimo tempo. Da parte nostra si conferma... Lo prenda perché l'ho interrotta prima, lo prenda. Da parte nostra si conferma qui non soltanto la regolarità formale della procedura di designazione, ma altresì il valore professionale del dottor Tagliaferri, il quale oltre ad aver ricoperto diversi incarichi, vanta un'indiscussa e duratura esperienza manageriale. manageriale, potrei continuare, continuare, continuare ma finisco perché non voglio abusare del vostro tempo. Ho l'impressione che la polemica incentrata su Ales abbia più la natura di un noioso pur parler a questo punto, interessato piuttosto che i presupposti di una sana dialettica di visione a chiacchiera, chiacchiera, poi qualcuno la chiama gossip, altri pur parler. Peccato che il mio predecessore, Gennaro San Giuliano, a cui va tutta la mia stima, abbia chiuso Itzart, per evitare che continuasse lo spreco di fondi pubblici che causava, altrimenti questa sarebbe stata una buona piattaforma da dove trasmettere un racconto poco avvincente. Chiudo, e ovvio, senza l'ombra di alcun arrière pensée, cogliendo l'occasione per riconfermare la mia stima professionale nutrita nei confronti di Antonella Manzione, già capo dei vigili urbani di Firenze, scelta nel 2015 alla guida dell'ufficio affari legislativi della presidenza del Consiglio dall'attuale interrogante. E allora Premier Matteo Renzi, che a suo tempo mi lusingai di difendere in pubblico dall'inaccettabile accusa di aver trasformato Palazzo Chigi in un comitato d'affari paesano. Grazie. La ringrazio. Sono certo che il Ministro, che è la prima volta che rispondeva a un question time, la prossima volta misurerà meglio il tempo, ma mi sembra che l'avessi io interrotto e che quindi fosse corretto recuperare. Renzi, le darò qualche secondo in più. Troppo buono, troppa grazia. Perché so che lei ha misurato. Perché lei risponde a un question time e mi dispiace averla vista tremare, come hanno visto da casa, anche perché non vi era alcun intento malevolo. Io non l'ho vista questa cosa, la pregherei di essere corretto. E dall'alto, Presidente, faccia l'arbitro, non faccia il supporter, si limiti a tifare Inter, Fratelli d'Italia la tifa in un'altra sede, anche lei. Stia al suo posto, la ringrazio. Il punto centrale in un... Allora, lasciate parlare Renzi. La casa si sta vedendo come la mancanza... Senatore Renzi, non trasformi il question time in un'occasione di polemica. Mi pregherai di lasciare parlare. Prego, senatore Renzi. Anche lei. Signor Presidente, io non ho ancora iniziato da risposta, immagino che possa iniziare adesso il tempo. Così, faccia la risposta. Grazie. Se lei non mi interrompe e lo dice ai suoi colleghi di partito, le sono grato. Abbiamo visto tremare non tanto semplicemente la sua mano, ma la sua voce. Al di là delle battute sulle capacità cognitive, senz'altro limitate del sottoscritto, ma in grado di far conseguire al medesimo una laurea in tempi decenti, cosa che auguriamo possa accadere anche a lei. Il punto centrale è che lei non ha risposto alle domande su Alice. Però a questo punto, guardi, Presidente, togliamo il vino dai fiaschi. A me del gossip non interessa niente. A me interessa sapere chi è stato assunto, come, chi ha preso i soldi, come. Sono i soldi del pubblico. Con la cultura non si magna. Non vuol dire che qualcuno può mangiare a parte. Quindi, se voi entro una settimana ci rispondete bene, altrimenti procediamo nelle sedi istituzionali altre. Il punto politico, visto che ho ancora un minuto, è che sì, sicuramente è stata prematurata con scappellamento a destra, come fosse Antani, la risposta monicelliana del Ministro, ma il punto chiave è che lei non ha dato una risposta di politica culturale. Voi avete messo uno che non ha un curriculum adatto per stare lì e lo avete difeso e avete messo in campo una polemica contro una consigliera di Stato, la dottoressa Manzione, che non soltanto aveva tutti i titoli per stare lì e che trovo offensivo che lei citi, ma che addirittura ha svolto un servizio, sì, al Paese. In quegli anni in cui lei ci difendeva, le segnalo che faceva il sindaco di Firenze, non di Rignano, che è importante almeno quanto la sua frosinone per la gestione dei beni culturali. In quella fase lì, lei, caro Ministro Giulio, anziché venire qui e dialogare con noi, è venuta a farci la lezioncina che noi, da uno che dava del patriota a Vladimirovich Pusi, non prendiamo. Vi misureremo sull'attività dei beni culturali, vi chiediamo la risposta alle domande entro una settimana e vi invitiamo a scoprire la gentilezza e l'umiltà nel posizionare non di fronte all'interrogante, ma di fronte al Parlamento della Repubblica che protempore la ospita come Ministro.